Prima! Allora, todo il mondo con le mani così! Todo il mondo per la mano che è alto! Abbiamo questa nuova del gruppo centrale con l'Europa! Porteremo in Italia in questa invagine di solidarietà, di fratellanza, di amicizia! E viva la gente! Viva la gente! Allora! Grazie! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.